Al parco zoo di Falconara la novità sono tre pulcini di fenicottero rosa che ora hanno tra i 15 e i 20 giorni. Intanto la struttura rivolge un appello, servono fondi per resistere nel medio-lungo periodo. Chiara Spegni. In questo momento sono dei simpatici piumini grigi, a noi piace definirli così. Raggiungeranno la classica forma di un fenicottero adulto come ce lo immaginiamo. All'incirca verso l'anno di vita, mentre la classica colorazione rosata l'avremo interamente in tutto il corpo, dal becco alle zampe, intorno ai 4-6 anni di età. Questi animali, che come gli altri vivono qui tutto l'anno, sono i più prolifici, ma non sono gli unici attesi. Prevediamo zebre, cammelli, ma noi siamo un po' sempre cauti nell'annunciare queste notizie. Ci piace proprio vederli prima, i nostri cuccioli. La chiusura legata all'emergenza coronavirus ha mandato in fumo gran parte delle entrate di quest'anno del parco zoo di Falconara, che aveva fatto investimenti nel 2018 l'area di una coppia di Ocapi, gli unici presenti in Italia, e un'altra in costruzione dedicata ai grifoni in arrivo dalla Spagna. Il problema che si pone è quello di sopravvivere a medio e lungo termine. Abbiamo bisogno di supporti, oltre a quelli che prenderemo personalmente, bisogno di supporti anche dall'esterno, da una regione Marche, addirittura, o da singoli nostri visitatori privati, insomma, che in qualche maniera riescono a farci arrivare al 2021. Qual è il quadro per i dipendenti? I nostri dipendenti stanno continuando a dare il loro supporto, il loro lavoro, seppur con orari ridotti, perché una parte della loro giornata lavorativa sono comunque in cassa integrazione.